Oggi la nostra amica Sara ci ha portati a fare un viaggio davvero speciale. Accompagnati dal bravissimo Marco e a bordo della sua lancia, abbiamo visitato alcuni posti particolari di Venezia e poi siamo andati alla Certosa. Qui Sara ci ha fatto conoscere Jean-Paul Morselli, direttore di Classic Boat Venice, un servizio noleggio di barche molto speciali, veneziane, artigianali, ma dotate di motori elettrici. Il nostro piccolo giro continua, Marco ci mostra l'isola delle Vignole, di cui io mi innamoro immediatamente e perdutamente. In questo momento la laguna è vuota, ci siamo solo noi e qualche altra imbarcazione, qualche pescatore, qualche gabbiano. Venezia e le sue isole, Venezia e la laguna. È tutto così bello, mi ci potrai abituare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.